E' vero, l'evangelizzazione oggi non può non passare attraverso web, internet. Sono strumenti grandiosi che Dio aveva previsto, ovviamente mettendo nel mondo intero gli strumenti perché questo fosse reso possibile. Finalmente l'uomo se ne è accorto e ha dato voce a questa grande possibilità che Dio ha offerto all'umanità di mettersi in comunicazione dappertutto a livello di globalizzazione. Ebbene, il Vangelo passa anche attraverso questi strumenti. Sono strumenti ambivalenti ovviamente, come tutti gli strumenti. Si possono usare in modo malvagio, e purtroppo è anche così, ma si possono usare in modo egregio. Noi vogliamo usare questi strumenti come Dio vuole, per il bene e per farli diventare sempre di più canali di trasmissione all'altezza dell'uomo di oggi del Vangelo, della bella notizia, perché anche questi strumenti possono far parte della bella notizia. Dio ha dato delle potenzialità in sé della natura che l'uomo scopre con la sua intelligenza, sempre frutto dell'amore di Dio, perché l'uomo ne faccia anche uno strumento di bene. Telepace, radici profonde che affondano nella spiritualità della Diocesi di San Zeno. La Diocesi di San Zeno, le sue varie strutture, il centro di pastorale giovanile, oggi è rafforzata questa unione, questa collaborazione anche con uno strumento particolare come questo? Lo strumento del web oggi è diventato insostituibile, diciamo essenzialmente necessario, comunque molto molto utile, non può non trovare da parte della Diocesi la sua risposta positiva. La Diocesi ha bisogno di questi strumenti e lo fa attraverso la collaborazione tra Telepace, che ringraziamo vivamente, è lo strumento della provvidenza e questo già da 36 anni. Con le varie istituzioni della Diocesi, a cominciare dal centro di pastorale giovanile che è interessatissimo a questi strumenti e che sa valorizzare al meglio, che auguriamo sappia usare sempre di più, quindi un bel patto di alleanza, un bel simposio vorrei dire tra Telepace e il centro di pastorale giovanile e poi estendiamola anche al centro di pastorale familiare e a tutti quanti gli altri momenti della pastorale diocesana. Sarà una grande avventura che auguriamo davvero splendida, con un grande futuro. Da questo punto di vista come vede il futuro della informazione e evangelizzazione a Verona con la sinergia di tutte queste belle realtà, il Vesco di San Zeno. Credo che noi avremmo la possibilità, attraverso la strumentazione di Telepace, che ormai è arrivata ad un alto livello, anche tecnologico, dei suoi operatori e della vivacità che possono avere i nostri centri di pastorale, perché sono davvero bravissimi, di poter offrire anche delle opportunità grandi, attraenti, perché alla fine si tratta proprio così, come attirare l'attenzione, l'interesse dei giovani di oggi, attraverso i giovani, come attirare l'interesse delle famiglie, attraverso le famiglie. E noi valorizzeremo questi soggetti perché diventino sempre di più affascinanti, capaci cioè di catturare l'attenzione del mondo giovanile e delle famiglie e che si sentano i si stessi interpretati. Voce dunque questo web, che speriamo quanto prima possa anche trovare realizzazione, tanto progressiva, ma la troverà, perché la diocesi è più che mai intenzionata a dare avvio a questo web tv, potrà trovare un bel futuro e l'evangelizzazione potrà compiere un bel passo in avanti. Ecco, lei ha parlato di web tv, come vede il prossimo futuro che riguarda questo progetto che piano piano si sta concretizzando, sta mettendo radici? Io vorrei che accelerassi i tempi, perché oggi i tempi sono così veloci che lasciar passare un anno, è come lasciassimo passare dieci anni, vent'anni. Non so quando potremo realizzarlo in pieno, auspico nel minor tempo possibile, perché questi strumenti debbono essere messi nelle mani di chi può contribuire a una vita buona, a far capire com'è bella la vita e com'è buona la vita, se secondo il Vangelo c'è vissuta in Cristo Gesù. Grazie.